Il gran finale, il numero che dedichiamo a tutte le donne, un numero che abbiamo intitolato il monociclo, vai! Hanno riso, siamo in frigo, no, siamo in frigo, certo, certo, no, non si capisce bene quel confine. Guarda che qua c'è il frigo, è giusto? Il frigo, giusto? Aspettiamo il materiale, aspettiamo il materiale, fai a mamaraccici in cocoda, attenzione, si non plei! Attenzione, dai, ok, ci siamo, dai, 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 che c'è già l'orchestra di dentro. E scalpita! Tutto bene? Benissimo! Ebbene signori, io vi saluto, grazie, siete un pubblico fantastico, lo diciamo ogni volta in tutte le piazze d'Italia. Siamo benissimo! Una bella musica pompata, allegra. Ma non va bene questa? Questa del chitarrista Manalinconico. Com'è tutto bene, la sta accordando, in realtà la sta accordando. Signore, signori, musica! Olè! Guarda che sfuggerà! La facciamo tragica! Ebbene signori, tragica per voi, qui a San Vito dei Normanni! Gesù, fai un miracolo! Guarda che luna, guarda che mare, la cuesta non è, senza te lo restare. Corre d'amore! Corre d'amore! Corre, morire! La luna, la flubi, staguarda Staggando, il ritmo di atto Cargaflats! Staggando, staggando Staggando, staggando Staggando, staggando Staggando, staggando Guardate il mare Guardate il mare E' presi agili, eh? E' presi agili! Forzuti! E' bene, caro pubblico, ve lo confesso! Grazie a questo numero, la mia settima moglie che cambio! Chi ci crede? Mia moglie con l'aiuto di questi due sfigati No! Volontari mi guardavano! Con l'aiuto di questi due volontari sfigati! 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 Giù! 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 Non piangere, però, eh? Ecco Giancarlo, non mi guardare così! Giancarlo, se vuoi farti una storia con mia moglie ti porti a casa tutta la famiglia! Scegli tu, scegli tu! Ecco, fermi, forti! Forti! Mia mamma, mia mamma! Ci mettiamo più a favore di tutti, voglio farlo un passettino più qua! Ok, perfetto! Meno male che oggi è 21 dicembre, ma in giro quest'anno! Signore e signori, tutti insieme! E uno, e due, e tre! Che cosa? Che cosa? Uno, due, e tre! Quando lo dirò io? Signore e signori, un applauso giù cascasella! Pazzicelo io! Signore e signori, au revoir! Saluto ma sorda! Sì! Ok! Nicola Giancarlo, forti! Giancarlo, forti! Ok! Andiamo! Signori e signori! Agile come un bradipo! Leggera come un rinoceronte! Ehhh, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Avete visto che pilastri di muovo? In piedi! Tutto a posto! Ok! Non c'è due senza tre! Più veloce! Uno! Due! Tre! Avete mai visto una foca su un'arena? Senti, dopo mi dici cos'è un'arena! L'arena non è la sabbia! Si dice sull'arena! Sull'arena signori! Guardatela! E non è il momento di disquisire di grammatica italiana! Guardate il faraone di capri! Guardatela! Andiamo avanti! Guardate! Di video sui ukul! Guardate! Di video sui ukul! Noi anche dovevo mettere Nicola di qua! Ecco! Dovevo Nicola! Nicola, perché noi vuoi? Basta! Vai a mettere la musica! Signora! Non mi guardi così! Ce l'ho fatta anche oggi! Con 44 anni! Hanno 5 anni che ha 44 anni! Di lisir di lunga vita! Di shumas go! Con con la gonna! Goanna! Dove guardi? La croccia non sapete! Goanna! Allora! 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 Di solito si chiedono due mani a un uomo! Non si sa quante mani abbi! Se ne faccio della mattina la sera ma soprattutto dove le metti! Giancarlo! Per favore due mani! Guarda il ritmo! Guarda il ritmo! Guarda il ritmo! E vabbè 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 vabbè! E effettivamente ecco Nicola se mi tiri giù con te! Caloro io! Giancarlo se mi spingi giù Nicola! Cado su Nicola! Comunque! Allora non ti stavi lamentando prima! Nicola e Giancarlo! Eh sì la colpa ce l'ho io che li ho scelto! Nicola e Giancarlo! A mio 3! In contemporanea! Giancarlo sei sposato! Aia! Ma niente non rivelo cosa ha detto! Signora è sposata! Sì ecco ma suo marito! In contemporanea! Sa cosa vuol dire! E qui vediamo solo noi donne eh! Bene! Se potete il mio 3! In contemporanea! Via il piede! E uno! E due! E tre! Oh oh! Da questo si vede che l'uomo raggiava meglio con i piedi che con le mani! Forte l'applauso! Vedete? Giancarlo! Mi mi sto invitando! Viva l'amore! Forte l'applauso Giancarlo! Grazie! E lo ricettivo eh! Come il mio! Tuo padre! Allora! Forte l'applauso a questo abbraccio! Se ne potrebbero vedere di più al mondo! Olè! Nicola! Tu sei il più fortunato di oggi! Io adesso vado! Tu resti e sorridi! Ebbene signori mia moglie rischierà la vita qui davanti ai vostri occhi! Volevate vedere il sangue? No! Io no! Signori senza sangue! Va bene! Nicola! Aspettami! Aspettami! Allora si sta! Allora si sta! Allora! Non mi faccio paura! Nicola! Prendimi! Per sempre!